Storia 5. In vacanza. Parte 2. Ci sono molte cose a cui dover pensare quando si va in vacanza. Può essere stressante, ma, se si è ben organizzati, non lo sarà. A questo punto sai con chi vai e quando. Sai quanto vuoi o puoi spendere, dove stare e cosa fare. Sai anche la destinazione, che, probabilmente, è la decisione più importante da prendere. Immaginiamo che stai organizzando e prenotando da solo, senza l'aiuto di un agente di viaggio. Così facendo, potresti trovare costi più bassi, ma incorrere in rischi più alti. Non è affatto una decisione semplice. Questi consigli ti renderanno le cose più semplici. 1. Scegli una buona compagnia aerea e controlla la disponibilità dei voli per le date in cui vuoi partire. 2. Verifica i posti dove alloggiare e la disponibilità della sistemazione nelle date prescelte. Presta attenzione a ciò che è incluso e a ciò che è extra. 3. Assicurati che ci siano attività da svolgere in linea con quelle scelte da te. 4. Se tutto è ok, ricontrolla le date e prenota i voli. Probabilmente troverai più di un posto dove alloggiare, ma forse c'è un solo volo che ti va bene. Quindi, prenota prima i tuoi voli. 5. Riguarda le date e prenota la sistemazione. 6. Adesso puoi organizzare le tue attività. Prima, però, decidi quali sono le più importanti. Controlla l'assicurazione offerta da ciascun fornitore di attività e assicurati che prendano sul serio la tua sicurezza. 7. Dai un'occhiata alle date ancora una volta e prosegui con la prenotazione delle attività. 8. Infine, richiedi immediatamente l'assicurazione per il viaggio, assicurandoti che essa copra voli, sistemazione, cure mediche e gli effetti personali. Pensa a quanto stai spendendo e assicurati che tutto sia coperto. Fatto ciò, conserva le ricevute in un luogo sicuro. Ora puoi iniziare a preparare il divertimento per la tua vacanza. Storia 5 In vacanza Parte 2 Ci sono molte cose a cui dover pensare quando si va in vacanza. Può essere stressante, ma, se si è ben organizzati, non lo sarà. A questo punto sai con chi vai e quando. Sai quanto vuoi o puoi spendere, dove stare e cosa fare. Sai anche la destinazione che, probabilmente, è la decisione più importante da prendere. Immaginiamo che stai organizzando e prenotando da solo, senza l'aiuto di un agente di viaggio. Così facendo, potresti trovare costi più bassi, ma incorrere in rischi più alti. Non è affatto una decisione semplice. Questi consigli ti renderanno le cose più semplici. 1. Scegli una buona compagnia aerea e controlla la disponibilità dei voli per le date in cui vuoi partire. 2. Verifica i posti dove alloggiare e la disponibilità della sistemazione nelle date prescelte. Presta attenzione a ciò che è incluso e a ciò che è extra. 3. Assicurati che ci siano attività da svolgere in linea con quelle scelte da te. 4. Se tutto è ok, ricontrolla le date e prenota i voli. probabilmente troverai più di un posto dove alloggiare ma forse c'è un solo volo che ti va bene quindi prenota prima i tuoi voli. 5. Riguarda le date e prenota la sistemazione. 6. Adesso puoi organizzare le tue attività. Prima però decidi quali sono le più importanti. Controlla l'assicurazione offerta da ciascun fornitore di attività e assicurati che prendano sul serio la tua sicurezza. 7. Dai un'occhiata alle date ancora una volta e prosegui con la prenotazione delle attività. 8. Infine richiedi immediatamente l'assicurazione per il viaggio assicurandoti che essa copra voli, sistemazione, cure mediche e gli effetti personali. Pensa a quanto stai spendendo e assicurati che tutto sia coperto. Fatto ciò, conserva le ricevute in un luogo sicuro. Ora puoi iniziare a preparare il divertimento per la tua vacanza. in un luogo in un luogo 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 in un 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 luogo in un